Tenetevi forte perché da oggi tutto è nelle vostre mani. Vi presento la prima super sfida su youtube tra due calciatori. Sarete voi a decidere chi è il più forte e lo farete grazie al vostro voto. Per partecipare vi basterà cliccare sulla e in alto a destra di questo video ogni volta che vi chiederò di esprimere il vostro parere. Siete pronti? Vi spiego brevemente come funziona. Due calciatori l'uno di fronte all'altro e cinque abilità. Vi chiederò chi è il più forte, il migliore secondo voi in ogni singola abilità e ovviamente dovrete esprimere una preferenza. Ripeto cinque abilità. Vince il calciatore che ottiene il maggior numero di voti in almeno tre di queste abilità. Prima di continuare però vi invito a lasciare un mi piace se volete un nuovo episodio e ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto. Cominciamo subito. Per la super sfida di oggi ho scelto due calciatori del passato, due vere leggende, rispettivamente di Juventus e Roma. Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Cominciamo con la prima abilità, il dribbling. Due modi totalmente differenti di saltare l'uomo, entrambi particolarmente efficaci, letali. Ma qui siete chiamati a fare una scelta. Secondo voi chi dei due era più forte nel dribbling? Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra. Passiamo subito alla seconda abilità, il talento. Cercate di ripercorrere a mente le migliori giocate di Totti e di Del Piero. Tutti i gol più belli, gli assist. Siete in grado di prendere una decisione finale? Secondo voi chi è il più talentuoso tra i due? A chi dei due riusciva tutto più facile con una palla tra i piedi? So che non è facile scegliere, ma avete pochissimo tempo per farlo. Ebbene quel momento è arrivato. Votate adesso nel sondaggio in alto a destra. Passiamo ora alla prossima abilità che ho scelto per questa settimana, ma badate bene. Durante i prossimi video sicuramente non sceglierò le stesse, anche se alcune potrebbero coincidere. Come terza abilità ho scelto la precisione di tiro. Ripensate a tutti i rigori calciati da Totti, a tutti i calci di punizione tirati da Del Piero, a tutti i gol di entrambi che vi vengono in mente. Chi tra i due secondo voi era un vero cecchino? Lo so, ho scelto delle abilità su cui è veramente difficile, se non impossibile, prendere una decisione, ma vi chiedo di farlo. Ora, votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra. Passiamo ora alla quarta abilità, i calci di punizione. Anche in questo caso due modi completamente diversi per sfondare la rete. Totti di potenza, Del Piero di precisione. Chi dei due secondo voi è stato il migliore? Potenza o precisione? A voi la scelta. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra. E adesso l'ultima abilità, il senso del gol. Il settimo senso per un calciatore, che significa prevedere il gol poco prima di appoggiare la palla in rete. Il trovarsi, anzi, il saper farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Totti o Del Piero? Chi era il migliore? Votate ora nel sondaggio in alto a destra. Siamo giunti al termine di questa prima super sfida. Chi avrà vinto? Io non posso ancora saperlo, ovviamente, ma voi sì. Controllate i risultati dei sondaggi di ogni singola abilità e verificate chi ne ha vinte di più in base alle preferenze. Ebbene, quello è il migliore tra i due. Il vincitore di questa prima super sfida. Se vi è piaciuto questo video vi ricordo di lasciare un mi piace per un nuovo episodio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei nuovi contenuti, ma soprattutto adesso tocca a voi. Scrivete nei commenti chi vorreste vedere di fronte per la prossima super sfida. Non ci sono limitazioni. Giocatori del passato, del presente, anche contro tra di loro. Sceglierò il commento che riceverà più mi piace. Che aspetti? Corri a scrivere i due giocatori che vorresti vedere nella prossima sfida. Per oggi è tutto. Vi do appuntamento alla prossima super sfida. Ciao ragazzi!